Demetre Core è un'associazione che si sta occupando dell'organizzazione di un evento importante per il rilancio dell'agricoltura. Si parla ormai da anni di un settore completamente in sofferenza, voi invece guardate al problema cercando di sfruttarne ancora le potenzialità. Sì, a parte l'agricoltura, rilanciare anche l'artigianato, perché come ben sappiamo sono stati sempre messi in un secondo piano e in secondo posto. La festa inizierà venerdì giorno 22 alle ore 17 con l'inaugurazione ufficiale. Per l'occasione abbiamo invitato il signor sindaco, tutta l'amministrazione e la sua giunta con la benedizione di Monsignor Padralabiso. Si concluderà domenica giorno 24 e in tarda serata. Come sarà articolata questa tre giorni? Allora, questa tre giorni sarà articolata. In Piazza Umberto I ci saranno dei vari stand in cui i produttori agricoli e artigiani esporranno i loro prodotti e faranno conoscere a tutta la città di Gela. In Piazza San Francesco invece ci sarà un'esposizione di mezzi agricoli antichi e moderni. Sul Sacrato della Chiesa Madre invece ci sarà un palco in cui verranno fatti teatro, balli di gruppo, delle varie scuole di danza e concerti varie. Questo si ripeterà nei tre giorni, cioè sabato e domenica. Sabato invece ci sarà una sfilata con abiti prettamente siciliani, il carretto siciliano tutto addobbato a tema. E in questi tre giorni ci saranno pure due convegni alle 10 del mattino, molto importanti, con relatori specializzati nel settore. Sempre in piazza? No, i convegni verranno fatti alla Pinacoteca del Comune. Grazie.